Nessuno sapeva che viso avesse questo fantomatico pippo che però praticamente riusciva a fare delle azioni da grande ufficiale perché i tedeschi erano convinti ad esempio quando lui conduceva un'azione di essere accerchiati da un battaglione di chissà quanti uomini. Mentre invece lui aveva pochissimi uomini e riusciva in questa maniera però a tenere sotto scacco anche delle formazioni abbastanza più numerose insomma della sua. E quindi poi insomma il suo rapporto che aveva con gli uomini e di questo dato che appunto è stato scritto il libro appunto di Alto Battaglini che era appunto un uomo della formazione di mio zio e che descrive molto bene com'era la vita lì all'interno della formazione e com'era il rapporto umano fra lui e suoi uomini. E compare proprio una persona che sa perfettamente integrarsi con i suoi uomini, non è che sia una persona che si pone al di sopra degli altri ma anzi al contrario per certi versi anche al di sotto perché addirittura poi c'è un aneddoto di scappe lanciate dagli americani che lui non vuole assolutamente avere per sé malgrado avesse le sue condizioni veramente disastrose e i suoi uomini sono costretti a approfittare del fatto che lui dormisse e aveva il sonno abbastanza pesante per toglierle e mettergli le scarpe mandate dagli americani altrimenti non avrebbe mai accettato questo per dare un pochino a grandi linee l'idea della persona com'era. E quindi questo ha fatto sì che devo dire con anche una certa meraviglia da parte mia perché dopo appunto 70 anni che mi sono ritrovata ad aprire un sito a lui dedicato e quindi cercare appunto di pubblicare del materiale che lo riguardasse devo essere sincera inizialmente pensavo che forse non sarebbe stata poi una storia che molti avrebbero ricordato perché innanzitutto per tutta una serie di motivazioni si era atteso storicamente a cancellare la formazione di Pippo e quindi si dava ampio spazio magari ad altre formazioni anche più pubblicizzate e politicizzate che non la sua e quindi era un po' l'undicesima zona insomma era un pochino passata in secondo piano e poi perché pensavo che questo personaggio appunto magari passato del tempo rimasti ai nipoti come sono io ecco magari poteva anche non riscuotere più molto interesse e invece con mia grande sorpresa mi sono resa conto che malgrado il tempo fosse passato in realtà ricordo di questa persona era ancora molto vivo sia in persone che all'epoca quando aperto il sito erano ancora vive sia e che l'avevano quindi conosciuto sia nei ricordi invece di chi era venuto dopo di loro quindi figli, nipoti eccetera e questo mi ha fatto molto piacere perché ovviamente risponde a una domanda che molto spesso gli adolescenti si fanno ossia a cosa serve la storia e questa è una domanda che oggigiorno ha un maggior significato anche rispetto magari a tempi passati perché la storia è molto importante ma non necessariamente la storia dei grandi numeri, la storia di Napoleone ad esempio intanto puoi citare un periodo storico contando quante battaglie ha fatto, in che data magari è diventato imperatore eccetera no ma la storia è proprio quotidiana di ciascuno di noi perché come dice un'omonima canzone noi siamo la storia e ce ne accorgiamo adesso che siamo in questo periodo particolarmente critico che molti non a caso hanno proprio paragonato a una nuova guerra e quindi noi facciamo la storia e sono uomini dal più piccolo al più grande che interagendo insieme riescono a creare anche delle cose molto belle malgrado il periodo infelice che stanno vivendo e questo è un pochino quello, il messaggio diciamo che ho voluto trasmettere con il libro e con questo filmato cioè in fin dei conti è vero il periodo era molto brutto a vent'anni mentre adesso si sta a pensare magari dove fare la periscena all'epoca a vent'anni erano già sui monti a pensare come combattere e molto spesso ragazzi che non avevano neanche tenuto un'arma in mano quindi dovevano anche imparare questo però devo dire che Marrico forse ha avuto la fortuna di nascere un anno molto particolare il 1920 è un anno che mette insieme nella stessa classe dei personaggi che poi faranno veramente la storia allora al di là di mio zio che comunque lui praticamente frequenterà il liceo forteguerri di Pistoia fino alla classe terza perché poi gli ultimi due anni la quarta e la quinta si sposterà a Lucca allora perché? Perché di fatto viene preso di mira dal preside che già sentendo evidentemente parlare appunto questi ragazzi che manifestavano delle idee un attimino insomma consideriamo il periodo in cui eravamo quindi stiamo parlando del 36 insomma evidentemente non gradiva molto certi scambi di opinione, certe idee e quindi aveva un pochino teso a prendere di mira alcune persone quindi mio zio si sposta a Lucca dove frequenterà proficuamente la quarta e quinta ginnasi ma i suoi compagni di classe che proseguono e quindi in classe di Pippo c'era anche Silvano Fedi con la sua formazione e poi anche altri personaggi tipo appunto Bellini dalle stelle che diventerà a sua volta un altro comandante partigiano molto famoso perché sarà colui che sarà con la sua formazione quello che catturerà Mussolini a Dongo e quindi ecco che insomma abbiamo un altro quindi nella stessa classe ben tre persone che diventeranno poi comandanti partigiani ma poi abbiamo nella stessa classe anche un caponnetto che non diventerà comandante partigiano ma diventerà a sua volta un partigiano nella lotta appunto contro la mafia e quindi ecco per cui poi altre vabbè personalità più strettamente pistoiesiche che sono appunto magari un pochino più legate al territorio ecco quindi intanto questo evidentemente incide molto su di lui, sulle sue idee, sulle sue letture eccetera però bisogna anche dire che cosa succede? Arriviamo piano piano intanto verso la fine della guerra e quindi Pippo con la sua formazione che nel frattempo era stata inglobata nella formazione alleata quindi degli americani per cui loro indossavano a tutti gli effetti divisi americane e quindi si racconta che ad esempio andando a liberare Milano entrando tra le prime formazioni che entrano a Milano un gruppo di tedeschi, per questo trovavo anche interessanti alcune foto che ho visto sono state pubblicate proprio di questi momenti qui entrando a Milano un gruppo di tedeschi aveva dichiarato che voleva rendersi esclusivamente agli americani perché aveva il terrore di essere lasciato in mano partigiana che quindi poi ci fossero magari delle vendette insomma certamente non dei frattamenti a loro favorevoli e quindi che fanno? vedano la formazione di mio zio che indossava divisi americane e loro convinti che siano americani si arrendono a loro salvo poi scoprire con terrore che era la formazione partigiana ripeto, tutti gli effetti americani mi vengono dati poi agli americani e così si chiude il discorso successivamente è l'unica formazione che viene praticamente viene lasciato l'onore delle armi dagli americani e quindi lui prosegue praticamente a mandare informazioni agli Stati Uniti perché non è così semplice la fine di una guerra noi siamo abituati probabilmente a pensare ok abbiamo finito questo periodo si festeggia tutti che la guerra è finita e siamo tutti felici in realtà non è così semplice pone dei problemi e i problemi che c'erano allora era la paura che ci fosse la cosiddetta ondata rossa dal nord e che quindi potesse successivamente avere un altro problema piuttosto serio perché poteva addirittura scaturire una guerra civile e quindi che già di fatto un po' sommersa c'era però a quel punto poteva essere ancora più palese e di conseguenza mio zio si era ritrovato appunto a raccogliere tutte queste informazioni a questo si aggiunge anche che il 48 è un anno molto particolare particolare perché? perché nasce Israele e quindi la nascita dello Stato di Israele porta a tutta una serie di problematiche di cui si parla molto poco e questo dispiace perché invece è un aspetto della storia che è fondamentale nel 48 e praticamente anche se geograficamente ci sono tutta una serie di avvenimenti che avvengono distanti dalle zone di cui stiamo parlando in realtà coinvolgono anche la lucchesia e le zone appunto gestite diciamo così da Pippo in quanto praticamente si inizia a creare una sorta di business di business di persone che vendono le armi agli ebrei di cui hanno un disperato bisogno perché devono creare il loro Stato e quindi si devono difendere per cui si va alla ricerca appunto delle armi che i partigiani possano ancora avere e qui si instaura appunto tutta una serie di meccanismi che poi appunto potrete approfondire anche nel libro e vedere un attimo come la situazione intorno a Pippo inizia a farsi veramente ingarbugliata i nemici sono in questa fase molto più degli amici per vari motivi lui cerca disperatamente di riprendere una vita normale cerca di riprendere addirittura gli studi universitari che aveva interrotto quindi il giorno prima della morte va a parlare con un professore Augusto Mancini appunto di Lucca che però insegnava appunto a Pisa all'Università di Pisa per iscriversi lì però malgrado questi progetti che quindi voglio dire insomma se una persona ha deciso un insano gesto non è che poi si mette a fare tutti questi progetti prima però insomma la mattina dopo di questa persona non abbiamo più notizie e sarà rinvenuto con delle modalità che poi vedrete nel libro insomma abbastanza curiose due giorni dopo quindi questo diciamo per tracciare un profilo veloce di quello che è la figura appunto di Pippo che però io nel libro non voglio che sia ricordato unicamente per il mistero della sua morte perché sarebbe non rende lì di giustizia in questo ma per come sia riuscito lui comunque a valutare tutte le situazioni con una grandissima lungimiranza una lungimiranza tuttora attuale perché se andate nel sito trovate ad esempio l'ordine del giorno che aveva scritto e questo se lo leggete ci ritrovate praticamente la situazione politica attuale e ci ritrovate tante cose che sembrano praticamente scritte ieri invece sono state scritte nel 48 per cui da una parte ci fa pensare che tutto sommato è cambiato poco siamo progrediti poco dall'altro però ci fa anche pensare alla lungimiranza di questa persona alle larghe vedute e soprattutto come riflessione finale ci fa capire a cosa effettivamente serve la storia innanzitutto a onorare le persone che hanno dedicato loro stessi in maniera piccola o in maniera grande questo non ha importanza ma hanno dedicato loro stessi a un ideale e poi a ricordarle e a ricordarle come dovrebbe essere cioè con riconoscenza per quello che hanno fatto e io ecco di fatto è quello che ho voluto fare con questo libro Stamattina mi sono alzato Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso oh partigiano oh partigiano portami via oh bella ciao oh bella ciao oh bella ciao oh partigiano portami via che mi sento di morire e se io muoio da partigiano oh bella ciao oh bella ciao oh bella ciao 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 e se muoio da partigiano tu mi devi seppellir e seppellire la sua montagna oh bella ciao oh bella ciao oh bella ciao 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 seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore tutte le genti che passeranno oh bella ciao bella ciao oh bella ciao 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fiore e questo è il fiore del partigiano oh bella ciao oh bella ciao oh bella ciao 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà questo è il fiore del partigiano morto per la libertà questo è il fiore del partigiano morto per la libertà questo è il fiore del partigiano Grazie a tutti.